Oggi ho deciso che se dovessi parlarvi di Cristiano Ronaldo lo farò solamente mettendo ancora più carne al fuoco di quella che ho messo ieri perché magari quando facevo un video e poi un altro parlavo poco 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 in un video e quindi ho deciso di fare video un pochino più lunghi nei quali ci butto dentro tanta tanta carne al fuoco. Ho parlato oggi e oggi o ieri non ricordo di quanto la Juventus abbia guadagnato da questo colpo mediatico Cristiano Ronaldo anche se poi il colpo in questo momento è solo una voce di mercato quindi insomma sta guadagnando davvero tanto se non l'avete visto ancora vi invito ad andarla a vedere. Vi vedo lasciare un like in questo video se volete aggiornamento su Cristiano Ronaldo ma io voglio parlarvi di una cosa importante, le cifre ragazzi, le cifre di Ronaldo. Perché? Perché io un po' qua, un po' là ne ho parlato, ho provato a dire quali potrebbero essere le cifre e adesso sto cercando di farvi capire precisamente quanto Cristiano Ronaldo andrebbe a costare alla Juventus. Diciamo che è un totale di circa 500 milioni di euro. Il suo cartellino con clausola di cui si sta parlando ma aspettiamo per vedere se questa clausola è reale o meno anche perché non possiamo esporci troppo e diciamo il valore sarebbe di 100 milioni di euro tondi tondi. Lui vuole andarsene il Real Madrid, lo sappiamo ragazzi, lo abbiamo detto 200 volte, non vuole, non può tenere giocatori contro voglia, non tiene mai chi vuole andarsene, lo fa da sempre e quindi anche con Cristiano Ronaldo, anche se è il più forte al mondo che aveva giocato il Real Madrid, sarà la stessa cosa e quindi per questa fantomatica clausola di 100 milioni di euro probabilmente Cristiano Ronaldo potrebbe andare alla Juventus. Questi 100 milioni di euro la Juventus li rifarà in un modo molto molto semplice. Higuain potrebbe andare al Chelsea per 60 milioni di euro, qui stiamo aspettando che si sblocchi la trattativa Sarri al Chelsea per prendere Higuain, per poi appunto dare i soldi alla Juventus per prendere il Chelsea Ronaldo che per due soldi mio padre comprò, 20 milioni di euro da Sturaro che comunque abbiamo visto porterà nelle casse della Juventus questa cifra che comunque a mio modo di vedere è molto molto alta, così come i 20 per Mandragora con la Juventus che ha una ricompra ma 20 milioni per me sono davvero tanti e infine Rugani che sembra essere stato messo sul mercato perché ha deluso un po' la dirigenza juventina per 40 milioni di euro che comunque sarebbe un'ottima plusvalenza per un totale comunque di 140 milioni di euro. La Juventus farebbe 140 milioni di euro semplicemente vendendo questi quattro giocatori e con quei 140 milioni di euro parlando del cartellino rifarebbe le spese di Cristiano Ronaldo e Douglas Costa il suo riscatto. Il riscatto di Douglas Costa era 40 milioni di euro, l'acquisto di Ronaldo la clausola sarebbe di 100 milioni di euro, quindi insomma la Juventus rientrerebbe. Lo stipendio ragazzi, qual è il problema dello stipendio? Lo stipendio di Ronaldo è altissimo, è 30 milioni di euro l'anno. Quel che però dobbiamo iniziare a capire è che la Juventus 1 alzerà l'asticella e 2 quest'anno ha risparmiato tanto perché è vero che magari ha messo a bilancio lo stipendio di Perin che prenderà 2 milioni e 3, di Spinazzola che prenderà 1 e mezzo, di Caldara che prenderà come Spinazzola, di Emrecian che addirittura prenderà 5, di Cancelo che prenderà 3, ma ha risparmiato un sacco di soldi. L'addio di Gianluigi Buffon addirittura farà risparmiare alla Juventus 4 milioni e mezzo di euro l'anno ragazzi, che sono veramente una cifra altissima se poi pensiamo all'età del giocatore. L'Iksteiner prendeva 2 milioni e 8, fa l'Arsenal a parametro zero e la Juventus si libera di un ingaggio onerosissimo per il giocatore. Anche a Samoa comunque due l'anno li percepiva. Higuain che andrà probabilmente al Chelsea, non si sa perché ieri il fratello ha detto che si trova bene a Torino ma poi insomma va a sapere quello che succede. Viene pagato 7 milioni e mezzo di euro l'anno, quindi la Juventus anche qua si libererebbe di un ingaggio non basso. Rugani viene pagato 2, Marchisio viene pagato 3 milioni e mezzo di euro, di Marchisio non ne ho parlato più ma però anche Marchisio sembrerebbe sul punto di partenza o si riduce l'ingaggio probabilmente andrà via a Sturaro, un milione e mezzo di euro. Quindi insomma la Juventus andrebbe a risparmiare per quanto riguarda questi giocatori 24 milioni e 800 mila euro, quindi parliamo di una cifra altissima. Inoltre va detto che i soldi per riuscire a prendere Cristiano Ronaldo arriverebbero da altre due fonti di cui ho già parlato. La prima appunto sarebbe lo stadio. Quest'anno la Juventus, per fare un esempio parlando della tribuna laterale, ha alzato ragazzi i prezzi di abbonamento annuale da 495 a 595, quindi di 100 euro a persona. Se pensate che magari, che cavolo ne so, in tribuna laterale l'abbonamento se lo fanno, ma che ne so, 15 mila persone, 20 mila, facciamo 15 mila persone, facciamo anche 10 mila persone ragazzi, 100 euro in più per 10 mila persone, fate il calcolo voi, insomma i soldi aumentano a dismisura. E parliamo solo della tribuna laterale, perché tutti i settori sono aumentati, non solo la tribuna centrale, mi pare, no la tribuna laterale, vabbè, quindi non si parla ragazzi di cifre basse, ma insomma la Juventus con questo colpo riempirebbe lo stadio, nonostante i prezzi alzati, e quindi insomma ci rientrerebbe. L'altro appunto sarebbero i due sponsor. Lo sponsor principale della Juventus dovrebbe essere la Fiat, la Fiat che sarebbe disposta a pagare una grande fetta di stipendio, visto che poi è la società di Agnelli. In generale ragazzi ancora si parla poco di questo, perché si parla di smentite, la Fiat non pagherà nulla, la Fiat non metterà mani, però insomma ci viene anche facile pensare come la Fiat possa entrare in questa trattativa che appunto farebbe alzare a dismisura il valore della Juventus in borsa, nonostante si sia già alzato semplicemente le voci di mercato. Pensate poi nel vedere Cristiano Ronaldo a Vinovo fare le visite mediche ufficiali, differenza di quello che ha detto Moggi, che ancora non abbiamo la certezza con la paglia della Juventus. Inoltre infine, sempre parlando di sponsor, c'è Adidas, ragazzi. Adidas, che poi ragazzi in realtà non si dice Adidas, ma si dice tipo Adidas, l'ho scoperto pochi giorni fa, non mi ricordo, un trauma assurdo, però vabbè. A parte questo, che è sponsor ufficiale di Cristiano Ronaldo, che starebbe pensando appunto di fare sponsor a questo punto anche alla Juventus, squadra di Juventus, prendese Cristiano Ronaldo, e che appunto gli pagherebbe una parte di stipendio. Perché ragazzi? Perché ovviamente andando poi ad investirci, tu sei sponsor di Juve, sponsor di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ci guadagni tanto tanto, l'Atidas non è stupida, fra l'altro l'Atidas ci sta pensando moltissimo, diciamo che potrebbe essere un buon motivo per la Juventus per rientrare nello stile di Cristiano Ronaldo, portando a Torino un giocatore stratosferico. Queste ragazzi erano le cifre per farvi capire come la Juventus potrebbe rientrare senza gravare nel bilancio in questo acquisto di Cristiano Ronaldo. Fra l'altro non c'è ancora il tetto Montengagio imposto dalla FIFA, quindi se la Juventus domani sull'Unghia decidesse di pagare 30 milioni di euro l'anno a Ronaldo e 50 a Neymar potrebbe farlo, l'unico problema sarebbe il fair play finanziario, però ve l'ho detto, già che vendi Guain e Rugani rientri nella spesa di Ronaldo e quindi legalmente sei a posto, diciamo che la trattativa permessa potrebbe farlo. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, mi piace, vi vedete più del solito se volete altri aggiornamenti sempre su Cristiano Ronaldo di ora in ora, di minuto in minuto, di secondo in secondo, di giorno in giorno, io vi ringrazio come sempre per la visione, iscriviti al canale in questo momento se ancora non l'hai fatto e segui su tutti i miei social Instagram dove mi chiamo Simone Siquelf trattino basso official Facebook dove mi chiamo Siquelf buo cialalala e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.